Emanuele Pisano, 33enne operaio di San Martino Valle Caudina, ma da anni residente a Montesarchio, stamane di buon'ora e ha raggiunto il cantiere di Altavilla Erpina per avviare, insieme agli altri operai, i lavori di rimozione della struttura in ferro situata al ridosso della piscina di Smessa, con tratta Sant'Angelo, un impianto mai entrato in funzione. Un intervento appartato da una ditta di San Martino Valle Caudina nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'aria da parte del comune La Vasca, della piscina mai inaugurata, vuota, e tante erbacce attorno. Questo è lo scenario attuale del sito che sorge alla periferia di Altavilla, nei pressi delle casse popolari. Sembrava una giornata come tante, Emanuele come sempre, visto anche la sua giovane età, portava sul posto di lavoro brio e entusiasmo. Il pensiero rivolto alla sua bambina di tre anni e ai suoi affetti personali, l'amore per la sua piccola, un antidoto anche contro la fatica e i sacrifici di una vita dedicata al lavoro. Il sole finalmente estivo, riappasso dopo l'insistente piogge di queste settimane, lasciava ben sperare per accelerare i tempi sull'ultimazione delle operazioni di smontaggio. Il giovane operaio, secondo i primi accertamenti, era nel pieno del lavoro quando una trave di ferro, quella che vedete agganciata alla gru nelle manovre di smontaggio, lo ha colpito alla testa. L'impatto è stato particolarmente violento. Emanuele Pisano è crollato a terra, morto sul colpo, ucciso dalla trave. Disperati gli operai che ne hanno assistito in diretta alla tragedia. Sono stati loro ad allertare i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, a cui non è rimasto arto che decretare il decesso del 33enne e i carabinieri. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Moscati per essere sottoposta a esame autoptico. Sul caso, la procura di Avellino ha aperto un'inchiesta. Gli investigatori impegnati a ricostruire la dinamica degli incidenti hanno ascoltato gli altri operai della ditta, i tecnici del comune di Altavilla Irpina. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Appena diffusasi la drammatica notizia sul luogo della tragedia, si sono portati anche i familiari della vittima lacrime e urla strazianti per la morte tragica improvvisa del proprio caro.